Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, bentrovati. Come state? Allora, che si dice? Niente, si dice che è un'indecenza che è quasi un mese, anzi è più di un mese che non faccio un video, quindi oggi ho trovato 10 minuti da dedicarvi perché è giusto che la vostra pazienza venga premiata. Avete una pazienza pazzesca, io non lo so se sarei altrettanto tollerante. Va bene, allora, volevo fare il video quello degli ultimi arrivi perché so che vi piacciono tanto questi video, perché siete curiosi, trovate spunti, oppure anche semplicemente come diceva quella ragazza con un commento l'altro giorno mi ha fatto troppo ridere, mi sento di salutarla in diretta perché è la stessa cosa che faccio anche io, mi ha colpito nel segno, oppure che usa i miei video come sottofondo mentre fa le faccende domestiche. Io anche uso i video di YouTube spesso quando spolvero perché mi tengono compagnia. Mannaggia, mi ha fatto troppo ridere. So cosa vuol dire. Allora, oggi come potete vedere, invece del video quello degli ultimi arrivi, mi sono ricordata dell'intenzione che avevo di parlarvi per prima di tutti i romanzi che ho letto fino adesso, per prima di tutto, per prima di tutto, aiuto, per prima cosa di questo, è Tresi Chevalier, strane creature. Allora, Neripozza, vedete questa bella foto di una spiaggia con queste due signore. E, allora, sono 9,90€, il bollino ovviamente non era lì dove poteva essere se non al centro della copertina, e sono 283 pagine. Notate che oggi mi sono preparata, eh? Non vi faccio aspettare mentre sfoglio il libro alla ricerca dell'ultima pagina. Deve scattare l'applauso qui, perché è una cosa strana da parte mia. Allora, voi, lo so perché siamo tutti uguali, io vi conosco, sicuramente avrete una pila immensa di libri che volete leggere, lo so. E tra questi so che ci sono anche dei bei mattoni, con begli argomenti, belli impegnativi. Ecco, secondo me, questo, ovviamente non è un mattone, però secondo me può essere... Sai quando dici, oddio, ho appena finito un libro pesante, vorrei leggere questo, mi interessa, però guarda quanto è grosso, mi ci vorrebbe una pausa. Eccolo, ecco la tua pausa. Secondo me questo potrebbe essere un ottimo intermezzo tra un mattoncino e l'altro. Perlomeno con me ha funzionato. È stata una lettura piacevole. Io avevo chiesto un po' di tempo fa di consigliarmi dei titoli di Tresy Chevalier, perché avevo letto La ragazza con l'orecchino di perla e mi era piaciuto tantissimo. Allora, vi siete scatenati e ho notato che alcuni commenti vertevano sempre su due, tre titoli, che ovviamente non erano né questo né quello che ho comprato, che ho dentro l'armadio in attesa di essere letto, chissà quando arriverà il suo turno, però sta lì. Questo perché? Perché ogni volta che andavo in libreria a cercare i titoli che mi avevate consigliato, trovavo sempre questo e quello che ho comprato. Ho detto, senti, dopo due volte ho detto, è destino che io devo comprare questi e me li compro. Però me li sono segnati quelli, quindi stanno lì, prima o poi li prendo. Vi ringrazio perché mi avete dato degli ottimi consigli. Allora, strane creature. Dunque, che dire? Quando io sono andata in libreria e ho letto la trama, questa si toglie, non è attaccata, è il libro in copertina rigida. Quando ho letto la trama, sono rimasta un po' così, piacevolmente incuriosita. Perché questa è la storia di Mary Henning. E voi direte, ma chi è? Bravi, è la stessa cosa che ho detto anch'io quando ho letto la trama. Chi era Mary Henning? È una persona a cui dobbiamo dire tanti grazie. Perché? Perché con la sua attività, fatta per motivi totalmente diversi da quelli che poi sono diventati i più famosi, ha contribuito con le sue, diciamo, con le sue passeggiate sulla spiaggia, con le sue raccolte di conchiglie e roba varia, ha contribuito a scoprire degli importanti resti fossili che non erano mai stati, prima di quel momento, ritrovati. Quindi questa signora ha praticamente riempito i musei, i musei di storia naturale, di scienza. Dobbiamo dirgli grazie. E non la conoscevo e ringrazio il fado che mi ha fatto scoprire questo romanzo, perché è stata veramente una bella scoperta. Infatti questa signora ha scoperto il primo fossile di Ittiosauro, che è un dinosauro acquatico. E non solo, perché Tresis Shevalier qui giù, poi, nella nota finale, ci dice che tra un Ittiosauro e l'altro questa signora ha anche scoperto il primo esemplare inglese di Pterodattilo, chiamato oggi Pterosauro, e il primo esemplare in assoluto, quindi in tutto il mondo, di Squalorazza. Cose proprio da poco, eh? Non è stato un acquisto sbagliato, sono contenta di averlo fatto, perché non conoscevo questa storia, questa signora. Ovviamente è un romanzo storico, quindi che vuol dire? Che i personaggi sono esistiti, però l'autrice, essendo un romanzo, si è divertita a creargli intorno una storia che funziona benissimo, secondo me. Veramente scritto bene. Allora, il romanzo è a due voci, Mary e l'altra protagonista che è Elizabeth Philpott. Elizabeth Philpott è la maggiore di tre sorelle, tutte e tre vivono a casa del fratello. Purtroppo, cioè purtroppo per loro, il fratello si sposa e cominciano i problemi per loro. Perché? Perché loro tre, nessuna delle tre aveva marito. E potete ben capire che nell'Ottocento, se non ti sposavi, entro una certa età, eri una zitellaccia. Detto proprio, lo dice proprio lei, eh? Non lo dico io. Eri considerata una vecchia zitella. E cominciano i problemi perché la stessa Elizabeth, con tanta tenerezza mi ha fatto quando dice questa cosa, dice che da quel momento la nuova signora Philpott avrebbe voluto campo libero in casa e quindi loro erano diventate un peso. Per questo decidono di trasferirsi, di lasciare la casa del fratello per trasferirsi altrove. Ora, staccandosi dal fratello però, le loro rendite mensili calavano e quindi non potevano più mantenere lo stesso tenore di vita di Londra. Per questo decidono di comprare un cottage in un piccolo paesino sulla costa... il punto preciso è Lime Regents, il paese si chiama Lime Regents, la baia, la baia di Lime, Lime Bay. Decidono di partire, di iniziare questa nuova avventura. Inutile dirvi che l'ambientarsi non è stato molto facile anche perché erano tre sorelle tutte e tre stravaganti perché la più piccola che poteva ancora avere qualche speranza di accasarsi era un tipetto brioso che amava i balli, amava la moda, si vestiva con dei turbanti in testa che lì scandalizzavano tutti perché era la moda di Londra ma lì non le avevano mai viste era arrivata questa con questi turbanti in testa, la guardavano tutti strana. Però alla fine veniva invitata ai balli perché gli piaceva ballare era sempre al centro dell'attenzione. La seconda sorella invece, la sorella di Mezzo, era amante e appassionata di botanica mentre Elisabeth era appassionata di fossili. Lei studiava e raccoglieva e catalogava tutti i fossili che trovava. Era proprio una sua passione. Leggeva anche trattati di scienza, di paleontologia, tutte le prime scoperte che erano state fatte in quel periodo. Lei amava molto informarsi, aveva una mente scientifica da questo punto di vista. Cosa strana perché all'epoca l'unica cosa a cui potevi aspirare erano marito, figlio e casa da accudire H24. Quindi tre sorelle senza marito, che vivono da sole, che vanno in giro senza un uomo al fianco, che si occupano pure di argomenti così strani. Insomma, non è proprio la cosa migliore da vedere per l'epoca. Per fortuna ci siamo evoluti, meno male, Deo Grazias. Allora, Elisabeth non appena arriva a Lyme decide subito di fare un giro nel paese per vedere, insomma un po', per rendersi conto della situazione e capita in una bottega di un artigiano perché aveva bisogno di un posto dove mettere tutti i suoi fossili catalogati in ordine. Nel momento in cui entra dentro questo negozio vede una bambina, Mary Henning, che era ancora una bambina, aveva tipo 9 o 10 anni quando si incontrano, se non sbaglio, che ha davanti un cesto di roba che lei vende. Guarda, Elisabeth, guarda dentro questo cesto e rimane scioccata perché ci sono tutti i fossili che lei conosceva ma che Mary neanche sapeva cosa fossero e tra questi c'erano fossili molto rari. Praticamente che cosa faceva Mary? Mary ogni giorno andava sulla spiaggia per raccogliere conchiglie, per trovare tra le rocce questi fossili da vendere e poi come souvenir alle belle signore che venivano lì in vacanza, alle signore benestanti che venivano in vacanza lì, ma non aveva la minima idea di quello che stava raccogliendo. Ha cominciato questa attività per necessità perché il padre aveva questo negozio e lei aiutava il padre a guadagnare soldi per mantenere la famiglia che era quasi indigente, che diventerà poi totalmente indigente nel momento in cui il padre morirà. Elizabeth chiede a questa ragazzina di mostrargli dove ha trovato queste cose. Mary all'inizio la reputa un po' strana perché lei dice questi sono ninnoli come li chiama lei, non ci vedo niente di speciale perché non sapeva quello che aveva dentro il cesto. insomma la conduce alla spiaggia dove lei di solito raccoglie queste cose e questa spiaggia diventa il teatro della loro amicizia perché stringono un forte legame queste due strane creature perché strane creature secondo me non è solo i fossili che vengono ritrovati ma anche i personaggi sono considerati secondo gli standard dell'epoca strane creature strane ma straordinarie perché? perché Mary scava di qua, scava di là un giorno trova all'inizio un cranio solo poi trova un fossile completo e perfettamente conservato di itiosauro che lei chiamava cocco perché pensava fosse un coccodrillo tutti pensavano fosse un coccodrillo nessuno ci aveva mai pensato che potesse essere un fossile di un dinosauro acquatico solo dopo si è scoperto che cosa veramente fosse quello scheletro che ha comprato che si che ha comprato che aveva trovato e purtroppo il nome di Mary non veniva quasi mai menzionato per parecchio tempo non è mai stato menzionato quando venivano mostrate queste scoperte al pubblico ed Elisabeth si è sempre la cosa bella è che per per amor del vero per amore della scienza Elisabeth da quel momento in cui Mary scopre il primo etiosauro si batterà fino a che potrà affinché il nome di Mary venga reso noto venga inserito all'interno dei manuali scientifici accanto alla foto di questo fossile ci vorrà molto tempo ma alla fine come poi ci dice la storia non questa la storia generale la storia di questi studi della paleontologia poi finalmente appunto gli sarà resa giustizia infatti cercatela su google Mary Hennings e vedete vedete scritto Henning con due n cercatela e vedete che tipetto tosto che era questa la cosa bella poi che ha Tresiscevalier ha fatto è costruire una storia di questa amicizia che aveva sì carattere all'inizio carattere prettamente scientifico perché Mary non sapeva che cosa stava raccontando raccogliendo Elizabeth sì e per amore della scienza voleva raccogliere e catalogare tutto appuntarsi tutto i luoghi dove trovava le cose migliori i luoghi dove invece non trovava nulla la posizione delle rocce magari che sembrava fossero un po' più profigue per la ricerca però man mano che si va avanti nel tempo fino alla scoperta del primo fossile di Ittiosauro l'amicizia fra queste due donne proprio diventa va oltre insomma il puro aspetto scientifico e infatti come ho detto prima Elizabeth si batterà per rendere giustizia a Mary perché nel momento in cui viene scoperto il primo Ittiosauro ovviamente hanno cominciato a girarci intorno parecchie persone a queste ossa che cercavano di impadronirsene per farci soldi e ovviamente se tu ti impadronisci di una cosa che non hai scoperto stai ben attento a non rivelare il nome di chi l'ha scoperto perché il merito vuoi che sia tuo per fartelo pagare più a caro prezzo ed Elizabeth combatterà proprio contro questo fino a sentirsi male per questo anche poi lo leggerete se deciderete di leggere questo libro a me è piaciuto molto sinceramente ho letto due libri di Tracy Chevalier e devo dire che fino adesso i personaggi a cui ha dato vita non sono personaggi per niente banali sono personaggi forti ovviamente la maggior parte sono donne proprio perché mi piace però questa cosa perché all'epoca di fossili studi scientifici di storia naturale se ne occupavano solo gli uomini per i motivi che ho detto prima perché le aspirazioni delle donne erano solo sposarsi e fare figli punto e Elizabeth e anche Mary poi successivamente ci si arrabbiavano per questa cosa perché dice ma noi tutto il giorno abbiamo la faccia bruciata dal sale la salsedine che ci ha macchiato i vestiti le mani tutte rovinate sbucciate perché a volte dobbiamo scavare con le dita perché i punti non sono raggiungibili dai martelletti perché non possiamo anche noi contribuire allo sviluppo della nostra della storia della nostra terra perché il nostro nome non deve comparire noi facciamo le stesse cose che fate voi scaviamo conserviamo puliamo cataloghiamo seguendo un rigoroso metodo scientifico è molto bella questa storia se mi è piaciuta più della ragazza con l'orecchino di perla no perché quella è stata amore da pagina 3 fino all'ultima pagina però questo è altrettanto bello sarei ingenerosa se dicessi che non è bello che non è interessante è un bel romanzo proprio per questo mi sento di consigliarvelo scorre piacevolmente l'autrice scrive bene fortunatamente in cui allora di solito nei due che ho letto nella ragazza con l'orecchino di perla c'erano meno descrizioni a parte qualcosa sulla pittura sul modo di fare i colori di farli di passarli sulla tela ok però sono passano qui ci sono qualcosina ma poco in più per l'argomento perché insomma vuole farti capire quando trova l'ittiosauro vuole farti capire che cos'è in modo che se tu hai studiato i dinosauri a scuola e hai visto le foto ti rendi conto di cosa ha scoperto lei non ha scoperto una cosa da niente quindi vi consiglio di leggerlo mi è piaciuto è stata una bella lettura piacevole e niente spero di avervi convinto ho parlato solo per 19 minuti e 56 di solito di solito sono 30 quindi vuol dire che adesso parlo 20 minuti a BAM no scherzo scherzo e niente non mi resta che salutarvi ringraziarvi per tutti i commenti che mi mandate sempre i messaggi privati siete tanto carini e gentili io cerco di rispondere a tutti nel breve tempo possibile anche se sto lontana con i video dal canale però non lo sono nelle risposte ai commenti quelle cerco di andare giornalmente a controllarli e spero che non mi sia sfuggito nessun commento niente questo video finisce qui io spero che la ragazza che ha il video in sottofondo abbia finito di fare le faccende domestiche è stato troppo divertente quel commento lo faccio anch'io e niente non mi resta che salutarvi e ringraziarvi ancora per la vostra pazienza e ci vediamo presto spero mi ci impegno dai su alla prossima ciao